Ciao a tutti, questo video sarà veramente breve, voglio soltanto mostrarvi alcune cose che ho acquistato da Wicon e che sto provando da qualche giorno, così comunque non sentirete la mia mancanza se non faccio video. Allora, i prodotti che ho acquistato sono quelli della collezione Vanessa Villa, che sono questi, scatolini bianchi con il fiocchetto. E poi ho acquistato anche il mascara Happiness, uscito anche questo recentemente, che è questo, in questa scatola arcobaleno. Allora, in realtà è più un video per mettervi in guardia da questi prodotti, che a me non hanno soddisfatto particolarmente. Allora, partiamo dalla matita occhi, matita occhi nera, costa 7,90€. è una matita che ha da una parte lo sfumino, matita nera, che così sembra bella scrivente, abbastanza morbida, nera, però sulla rima interna dell'occhio, dove almeno la voglio utilizzare io, non scrive per niente, faccio veramente fatica, devo insistere, poi alla fine succede che mi lacrimano gli occhi, quindi insomma. E la cosa che mi sta più antipatica è il fatto che non la stavo prendendo in considerazione, poi una commessa mi ha così decantato le lodi di questa matita, dicendomi che invece scrive benissimo, che dura tanto, in realtà non è così. Ecco, questa è la cosa che mi ha scocciato di più, però capisco anche che loro sono nel negozio e devono vendere, quindi anche raccontando cose non proprio veritiere. E comunque insomma il limite di questa matita purtroppo è questo, che nel mio occhio non scrive, anche adesso ho fatto veramente fatica per fare questa minima riga nera, ma comunque sta già andando via, e ce lo suda da pochi minuti, quindi non resiste e si fa anche fatica a fare un bel tratto, perché scrive veramente poco. Quindi meglio stare lontani da questa matita. Poi, altra cosa che sto indossando adesso, che è il rossetto liquido, ci sono due kit che hanno all'interno matita e rossetto liquido, c'è questo color nude, quello che ho preso io, e ce n'è uno rosso. Anche questa mi ha incuriosito, il kit costa 11,90 euro, mi ha incuriosito e ho voluto provare la matita e mi piace, è morbida, scrivente. Il rossetto liquido è questo, ve lo faccio vedere anche sulla mano, questo è l'applicatore normale. E questo è il rossetto. E anche questo non mi dice granché, nel senso che comunque non si asciuga mai completamente, perché anche dopo un po' lascia comunque un pochino di colore, un po' il contorno. Poi lo trovo non particolarmente confortevole, ma mi sembra che, non so, io lo sento un po' burroso sulle labbra, cioè lo sento. Non è di quelli che metti e non senti più, te li dimentichi. Comunque lo sento un po', è come quando metto il burro cacao, no? Che ho la sensazione di qualcosa di burroso sulle labbra. E per di più mi sembra, almeno questo colore, mi sembra che non sia neanche particolarmente omogeneo. Adesso ho messo ovviamente sotto la matita e quindi diventa più omogeneo. Però, anche mettendolo da solo, mi sembra che comunque in alcuni punti non si veda il prodotto, cioè sia quasi un po' trasparente. Quindi, insomma, anche questo non mi è parso un prodotto così interessante, così, insomma, che si comporti così bene. Diciamo che ne posso fare anche a meno, ne potevo fare anche a meno. Parliamo invece dei mascara. E qui veramente ho fatto diverse prove perché volevo capire un po' come si comporta l'uno, quindi quello della collezione Vanessa Villa, e l'altro, che è questo qua, che si chiama Share Happiness. Quindi condividi la felicità, magari. Quindi questo della collezione. Questo entrambi costano 9,90€. Ho fatto diverse prove. In questo momento, per esempio, comunque sto indossando entrambi su un occhio e sull'altro. Non è lo stesso. In uno ho messo uno e nell'altro ho messo l'altro mascara. E ho fatto un po' degli incroci perché ho provato a metterli entrambi, cioè lo stesso su entrambi gli occhi. Ho provato a metterne uno su un occhio e uno sull'altro. E questo perché, appunto, io avendo comunque le ciglia diverse nei due occhi, quindi da una parte ciglia più lunghe e dall'altra decisamente più corte, volevo proprio metterli a confronto e capire un po' le caratteristiche dell'uno e dell'altro. Anche per potervi, così, dire una mia opinione un pochino più, insomma, un po' più utile. Allora, vi faccio vedere il mascara. Questo della collezione Vanessa Villa. Ah, lo scovolino ho fatto così. Allora, sul sito dice che è a triangolo e che ha dei dentini più radi e più fitti. Io, dico la sincera verità, non la vedo questa differenza, non so. L'ho guardato a lungo attentamente ma non riesco a percepire questa differenza. È comunque uno scovolino allungato, quindi fine. E, boh, questa forma è anche un pochino... cioè, non è proprio esattamente dritto, vedete? Però, non so, questi dentini diversi non riesco a vederli. Ma sul sito proprio dà indicazione anche di come va applicato. Quindi, dalla parte delle setole più rade, va applicato all'inizio, a zigzag, partendo dalla radice, delle ciglia, fino all'esterno, per tutta la lunghezza. E poi dice di utilizzare invece la parte con i dentini più fitti per dare definizione. E quindi anche e soprattutto sulla punta delle ciglia. Quindi, vabbè, io lo metto così, praticamente senza guardare tanto appunto al lato lungo, al lato fitto, al lato meno fitto. Comunque, questo mascara lo trovo bello nero, da volume, da curvatura e da lunghezza. E io, appunto, ve lo faccio vedere applicato proprio sulle mie ciglia, quelle più corte di questo occhio. Vedete che, comunque, diciamo che si minimizza un po' questo difetto che ho io di avere le ciglia più corte. Vedete che, comunque, le ciglia sono belle, volumizzate. È bello, è una formula abbastanza ricca, densa. Infatti, vedete che rimane una buona quantità di prodotto sullo scovolino. Adesso ho fatto un bel pasticcio. Ma perché mai? Vi faccio vedere l'altro, adesso sono tutta sporca. Brava. Vabbè. Allora, vi faccio vedere, invece, l'altro. Questo qui, Happiness. Peccato che dentro sia semplice, così, argentato, con la scritta fucsia. Sarebbe stato bello se fosse stato anche all'interno, così, a arcobaleno. Comunque, questo qua, invece, ha questo tipo di scovolino a clessidra, in elastomero. Quindi, vedete, ha questa forma più stretta nella parte centrale. Questo qui, l'ho messo subito a confronto con il mascara della collezione Naughty Kitty, che era questa. uscita un po' di tempo fa. Scovolino, secondo me, è praticamente identico. Vedete? Sono proprio uguali. Sono praticamente uguali. Quindi, questo mascara, invece, secondo me, io ho proprio l'impressione che separi meglio le ciglia, però di anche meno volume, vedete? Rispetto alle altre. Le ciglia sono meno voluminose, anche se comunque da abbastanza curvatura e definizione. Quello che però mi succede, per esempio, con questo scovolino, non so se appunto è la forma clessidra, mi sporco. Quasi mi viene una linea di eyeliner. Con l'altro, invece, riesco ad essere più precisa e a sporcarmi di meno. Forse perché appunto è anche uno scovolino più, come dire, più sottile. E quindi, tra i due, io preferisco sicuramente questo. Perché appunto, su ciglia lunghe, secondo me, si comporta comunque benissimo. Sulle ciglia più corte, trovo che appunto dia più volume e più lunghezza. Quindi aiuti a renderle più visibili, più lunghe. E quindi appunto volumizzate. È proprio nero, nero questo. L'altro, invece, appunto, l'happiness. Share happiness. Questo qua. Va bene, secondo me va bene su ciglia già lunghe. Quindi, nel caso appunto si abbiano delle ciglia già belle lunghe. E quindi si abbia soltanto bisogno appunto di dare un po' di definizione, un po' di volume. Quindi, cioè, penso che appunto parlino meglio di me le immagini. Insomma, la resa sui due occhi, no? Vedete anche voi come appunto uno, questo qua è più... Dà più volume e l'altro, invece, dà più definizione, dà meno volume. Vedete? Dopo, alla terza passata, tendono, ma questo entrambi, ad appiccicare un po' di più le ciglia. Soprattutto questo che è più volumizzante. Tendono, poi a un certo punto, ad appiccicarle. Cioè, diventa tanta la quantità di mascare, quindi. Però, ecco, questo qui, della collezione Vanessa Villa, per esempio, già la prima passata, comunque, rende le ciglia proprio nere. E subito ben visibili. L'altro, invece, bisogna lavorarlo di più e quindi diventa più visibile alla seconda passata. Quindi, tra i due, io mi sentirei di consigliare di più questo, anche se comunque mi sembra che entrambi si comportino bene. Questo è il mio pensiero, io spero di esservi stata utile con questo mio, come sempre, modestissimo pensiero. E vi aspetto al prossimo video. Ciao!